Grazie a tutti Benvenuti a una nuova trasmissione del punto, come sempre l'approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e salutiamo Raffaele Nevi di Forza Italia, presidente del Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale. E salutiamo anche Eros Brega del Partito Democratico, presidente della seconda commissione consigliere. Partiamo dall'argomento del giorno, anche se è passato quasi un mese dal tragico evento del terremoto che ha coinvolto il Lazio e le Marche, ma anche l'Umbria. Ancora una volta l'Umbria costretta quindi a fare i conti con i danni strutturali e sociali di un sisma che ha fatto gravissimi danni e vittime nel Lazio e nelle Marche, ma che ha colpito con forza anche la Valnerina, soprattutto il territorio di Norcia. La regione, subito giustamente in prima linea, sta elaborando iniziative, tutte quelle possibili, anche legislative, per fare fronte a una situazione che con l'arrivo della stagione autunnale necessita di interventi immediati. A Norcia si sono già riunite in una seduta congiunta le due commissioni, prima e seconda dell'Assemblea Legislativa. Cominciamo proprio da Brega, che è il presidente della seconda commissione. A che punto è e a che punto siamo arrivati per garantire le risposte per questa prima o seconda emergenza, poi per la ricostruzione? Mi pare che siano vicine anche le soluzioni per casette prefabbricate. Sì, innanzitutto bisogna ricordare e riconoscere che nella tragedia, nel dramma, i primi soccorsi, la protezione civile e quant'altro, ha funzionato tutto con grande ed estrema attenzione, non ci sono stati problemi. Devo dire che oggi inizia una fase importante. Io credo che dovremmo evitare un pochino tutti di fare grandi promesse e cercare di più di attenerci a quella che è la concretezza. Non so se le casette si riusciranno ad arrivare domani, dopo domani, in giro di qualche settimana. Credo che comunque noi dovremmo togliere quanto prima quei cittadini umbri che sono oggi nelle tende per poterli dargli una sistemazione nelle casette o in alcune strutture, anche alberghiere che sono nella zona. Sicuramente dovremmo lavorare anche su Atopro nel rilanciare l'immagine dell'Umbria che oggi rischia di essere danneggiata e rischiamo di essere, tra virgolette, fortunatamente, non avendo pagato in termini di vite umane il dramma del terremoto, rischiamo comunque di essere quelli che, beffeggiati due volte perché hanno la beffa di un'immagine del terremoto che magari è a pari all'altra nel mondo, abbiamo la fortuna, ringraziando un pochino anche il signore, che non ci sono stati drammi sottoprinte delle vittime, però c'è un profilo che è legato all'economia, al turismo, quella è una zona che comunque per l'Umbria è fondamentale. Se non ci investiamo subito, rischiamo di rimanere ultimi perché siamo nei dati veri, da una parte fortunatamente quelli che hanno subito meno danni, però nell'immaginario collettivo a livello anche europeo e del mondo rischiamo di avere quell'immagine che per i nostri operatori rischia di essere deleteria. E' anche vero che alla paura è difficile far fronte, perché poi la paura del terremoto, anche per il turista, per quanto puoi tranquillizzarlo, però chiaramente se il terremoto c'è bisogna dirlo. Sì, però noi dovremmo secondo me cercare di essere veramente, fare una cosa ma farla con credi, perché oggi quel territorio, i cittadini hanno bisogno di assistenza, ma una regione piccola come l'Umbria o rilancia subito la propria immagine o rischiamo, nelle difficoltà che ci sono di un'economia globale fatta di anche altre difficoltà, se ci aggiungiamo anche questa, veramente rischiamo di riconsegnare. E' complesso la regione, secondo lei, come ha affrontato questo problema? Quello che poteva fare, che è saldita di tutto, penso che abbia fatto tutto il possibile, stiamo ancora facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità, ecco mi auguro che nei prossimi giorni si possa trovare questa sinergia tra governo nazionale, appunto il fronte istituzionale regionale per poter fare fronte alle ulteriori esigenze, istanze che ci sono, ma credo adesso al di là di tutto che più di quello che abbiamo fatto non potevamo fare, l'abbiamo fatto con un grande senso di responsabilità, con un grande senso civico e senza veramente, mettendoci dalla parte dei nostri concittadini che hanno subito queste esigenze. Un po' come è avvenuto a livello centrale, Nevi anche a livello regionale, diciamo la politica si è unita in questo momento particolarmente difficile. Sì, questo è stato un fatto positivo perché siamo arrivati in Consiglio regionale a fare una risoluzione unitaria, perché poi il terremoto non è di centro, di destra o di sinistra, è il terremoto che purtroppo ha colpito tutti quanti, tutte le persone di quelle zone, quindi abbiamo sentito anche la responsabilità, non tutti come al solito, ma insomma le forze politiche più importanti del Paese hanno sentito la responsabilità di unirsi nel dire alcune cose molto precise, che tra l'altro condividiamo anche a livello di forza politica che rappresento, cioè Forza Italia, lo stiamo anche ribadendo a livello nazionale, cioè che per la prima volta si riesca a far tesoro dei terremoti del passato, e quindi per esempio la ricostruzione avvenga in modo più omogeneo, perché spesso c'era il tema delle seconde case. Allora è chiaro che di fronte all'emergenza di gente che non ha più la prima casa, è chiaro che la priorità deve andare a questo, però abbiamo inserito un comma, penso innovativo, nella risoluzione che è quello di dire al Governo non ti dimenticare anche delle seconde case, perché poi se vicino a una casa ristrutturata ce n'è una che appunto non è ristrutturata, il problema si riverbera su anche quella appunto ristrutturata e sicura. Quindi abbiamo il dovere, penso, di non fare come in passato, dove sulle seconde case i soldi non sono mai arrivati e spesso non sono state rimesse in sicurezza. E quindi ti trovi che hai una bella casa che regge a fianco una casa completamente scaricata dal terremoto, perché appunto era stata rifatta così male o addirittura non rifatta. E poi c'è il tema dello spopolamento, cioè qui abbiamo delle zone che sono zone in cui d'inverno ci sono 3.000-4.000 persone d'estate ce ne sono 30.000 perché chiaramente ci sono molte seconde case e molto turismo. Ecco, quindi penso che la specificità sia un po' questa, noi l'abbiamo inserito. Per la prima volta sperimenteremo il tema di una emergenza, di una ricostruzione che verrà gestita completamente a livello centrale, in cui le regioni potranno solo, diciamo così, collaborare. Speriamo bene, insomma. Ecco, io mi auguro che sia iniziata in fretta, a parte il tema di garantire alla popolazione l'uscire dalle tende perché in quelle zone dentro le tende non si può stare e poi che sia garantita la più veloce possibile ripresa delle attività economiche e sia avviata il più velocemente possibile la ricostruzione perché è fondamentale anche per lanciare un messaggio che in quella zona l'economia riprende e che il turismo può tornare a essere... In seconda commissione, in discussione ci sono tre testi unici, un po' la risitazione dovuta anche ad alcuni passaggi che non andavano bene perché poi il governo li ha impugnati e bisogna rivedere alcune cose. Ecco, lei ha l'urbanistica, il commercio e il turismo, diciamo che il momento forse non poteva essere migliore per eventualmente, come lei spesso ha sottolineato, l'agricoltura, mettere mano a quelle situazioni lì. Come interverrà, come interverrete? Noi stiamo aspettando di capire alcune indicazioni che potranno venire anche dal governo centrale. Ricordava Raffaele una cosa importante che questa è la prima volta che per la ricostruzione ci sarà un unico interlocutore, cioè il governo centrale attraverso la nomina di un commissario che è quello della figura di Vasco Errani. Io mi auguro che questa centralizzazione per la ricostruzione possa mettere tutte e quattro le regioni, perché anche l'Abruzzo è stato inserito dentro, nello stesso piano e dunque far sì che la ricostruzione parta insieme e dunque insieme si possano affrontare turismo, agricoltura, urbanissima e quant'altro. Io, noi in commissione, non abbiamo ancora deliberato a questo punto queste cose per capire se ci sono linee guida che il governo ci darà per indirizzare questi testi unici, per capire se ci sono risorse e dunque testi, dato che le leggi si fanno in Consiglio regionale, stiamo cercando di capire se ci sono soldi, fondi per poter attingere, per poter fare delle reggi a favore di queste aree. Ricordavo quando eravamo in commissione sulla Norcia e nel documento è stato messo pure anche questo, di pensare a un indennizio per i mancati guadagni, per esempio per gli albergatori. Nel 1997 in Umbia fu fatto, praticamente si utilizzarono i fondi, quelli europei, le misure del turismo, gli albergatori per il mancato guadagno ebbero una parte di rimborso che permise a molti strutture di non chiudere e di rimanere aperte anche ad oggi e di non essere drammaticamente in qualche maniera colte, oltre che dal profilo drammatico del terremoto, anche da quello economico. Dunque siamo in attesa di queste linee governative, stiamo cercando di capire quelli che saranno i fondi e cercheremo, ribadisco, una cosa è chiara perché bisogna essere seri, da soli come Regione non ce la facciamo a garantire tutto, possiamo fare una parte, possiamo essere seri, dobbiamo essere corretti, bisogna anche dire che sarà fondamentale l'apporto che il governo centrale ci darà e Raffaele lo ricordava, credo che questa comunione di intenti che ci ha detto alle forze politiche per affrontare il tema, per affrontarlo bene e anche velocemente sicuramente ci aiuterà, però credo che nelle prossime ore avremo degli indirizzi chiari su cui lavorare, su cui poterci proiettare come commissione per poter andare a indirizzare sui diversi temi, le situazioni e dare delle risposte concrete. Nevi, cosa proporrà? Cosa proporrà l'opposizione, anche se abbiamo detto e sottolineato in più di un'occasione questa linea abbastanza unitaria per quanto riguarda gli interventi da prevedere, però proposte particolari? Noi vorremmo che ci sia una vicinanza costante non solo nel momento dei fatti della Regione e dello Stato centrale rispetto appunto a una popolazione che è molto impaurita perché le scosse poi continuano e quindi insomma la situazione non è delle migliori. Noi abbiamo bisogno poi che ci sia un grande progetto diciamo così di rilancio del turismo, quest'anno c'è stata una stagione fantastica, insomma per la prima volta erano tornati molti turisti che a causa della crisi erano mancati e quindi lì ci sono veramente delle realtà che hanno bisogno di grande flusso turistico per reggersi in piedi insomma perché Norcia non è un luogo qualsiasi. Quindi ecco la nostra proposta si concentrerà soprattutto su questo, fare un piano anche di marketing per dire siamo in sicurezza, i turisti possono tornare e anzi in questo senso abbiamo fatto anche la proposta che è stata inserita nella risoluzione di costruire anche in Umbria magari un centro di ricerca sulla sismica che potrebbe essere l'occasione anche per sperimentare delle soluzioni ancora più innovative che reggano ancora meglio rispetto alle scosse di terremoto. Allora cambiamo argomento, siamo a metà trasmissione, parliamo di un'altra situazione all'attenzione della seconda commissione, all'attenzione dell'assemblea legislativa, parliamo di ambiente, parliamo di rifiuti, venite entrambi da Terni dove la situazione insomma ambiente è particolarmente sentita, c'è adesso una serie di audizioni per la presenza di emiato, in questo caso non riguarda soltanto Terni ma riguarda un po' l'intera regione ma per quanto attiene anche ad altre situazioni come la riattivazione del termovalorizzatore, della Terni Biomasse, insomma ci sono delle situazioni particolarmente al centro dell'attenzione, Brega che pensa? Come la regione guarda queste situazioni? Io voglio fare un'analisi molto concreta e sganciata dal ruolo di Presidente e anche di… io ho un'idea, credo io sono per lo sviluppo, sono per l'impresa, sono per l'industria e non sono per fare battaglie ideologiche, però credo che quel territorio di Terni sia saturo ambientalmente e credo che oggi aggiungerci solo 1,0,1 a livello ambientale su quel territorio credo che sia veramente imbarazzante poterlo accettare. Mi auguro che l'amministrazione comunale di Terni faccia tesoro, mi auguro che l'ARPA e il suo direttore generale oltre che ad accentuare su di sé i suoi poteri possa governare al meglio su questo territorio, quelle che sono veramente le garanzie minime o massime, anzi credo massime, che debbano essere dare a tutti i cittadini. Dunque non faccio un approccio ideologico, ribadisco sono per lo sviluppo, per l'impresa, per l'industria e tutto quanto, però penso che a Terni il termovalorizzatore di Ocea, questo biomasse nuovo, la Ceglieria che comunque è lo sviluppo di Terni e lo sviluppo della nostra regione, però sappiamo che a livello ambientale è abbastanza pesante. Io penso che già il termovalorizzatore di Ocea sarebbe sufficiente, sapendo che abbiamo una realtà come la Thisten Group e che è la nostra storia, che è la nostra città, che è la storia di Terni e la storia della nostra regione a cui non potremo fare a meno. Però per salvaguardare al meglio queste cose evitiamo di appesantire quel territorio e cerchiamo di dare le massime garanzie, perché credo che… E la soluzione secondo lei quale potrebbe essere? Io non ho mai capito perché è dovuto nascere l'altro termovalorizzatore. Qualcuno mi spiegava che ci sono delle autorizzazioni date dovute, io credo che di dovuto non ci sia nulla. Ecco, io non voglio bloccare lo sviluppo, però voglio tutelare la gente e tutelare, visto che ci abito, visto che… Un equilibrio migliore tra sviluppo e… Credo che dovremmo controllare al meglio questi nuovi impianti perché di dovuto non c'è nulla e credo che di fronte a tante disgrazie ambientali che ci sono, di dovuto è che noi dobbiamo tutelare l'economia e per tutelare l'economia dobbiamo tutelare chi fa l'economia e chi fa impresa che può essere l'acceglieria. Andare ad inserire su quel territorio altre cose, dunque mi auguro che l'ARPA che oggi ha dato di nuovo il Via Libera possa approfondire veramente in fin in fondo su questa situazione perché ribadisco su quel territorio inserire ancora una volta, ancora altro, credo che sia diventando veramente insopportabile. Sarebbe bene che qualcuno spieghi di fare la differenziata in quella città perché Terni è l'ultima città in Umbria che non riesce a fare la raccolta differenziata e forse qualcuno dovrebbe farsi qualche domanda e chiedersi perché. Investiamo su quello che è importante per i cittadini ed evitiamo di investire, come si dice, su atti dovuti che io non ci credo più. Nevi, mi pare dai suoi interventi anche precedenti sia un po' sulla linea di Torni e Ibrega. Sì, nel senso che lì c'è una situazione che non va più minimizzata, visto che per anni è stata minimizzata da chi amministra la città. Bisogna essere molto attenti, la gente ha bisogno di trasparenza perché la trasparenza è la cosa fondamentale su questi temi, bisogna capire com'è la situazione, approfondirla. Io ogni volta che nasce un nuovo studio sulle condizioni di ambiente che poi riverberano sulla salute dei cittadini sono felice perché insomma non è che ci sono troppi studi, forse ce ne sono troppo pochi. Noi dobbiamo anche capire bene, perché poi la scienza su questo ancora non ci dà risposte certe e definitive, quale sia la correlazione tra certi tipi di inquinanti, certi tipi di impianti e per esempio l'insorgere di patologie tumorali. Ecco, quindi senza fare troppo allarmismo perché c'è qualcuno che ci gioca politicamente su queste cose, allora questa è dai responsabili, però certamente una politica responsabile deve capire, approfondire, se del caso anche che chiudere impianti che non rispettano in toto le regole, le regole vanno fatte applicare in modo inflessibile. Certo, qui in Umbria avevamo un'ARPA che funzionava molto bene, adesso c'è un direttore che ha cambiato completamente, noi siamo molto preoccupati, io a tal proposito annuncio, come ho già fatto, ribadisco che ho presentato una proposta di modifica legislativa perché insomma di punto in bianco c'è stato un accentramento di poteri in mano a poche persone, al direttore generale e hanno lasciato sguarnito un po' il territorio. Io penso che bisogna fare esattamente il contrario, cioè dare molto più valore al territorio, controllare da vicino la situazione, cercare di collaborare con le imprese per trovare soluzioni più avanzate anche dal punto di vista ambientale. Noi abbiamo sempre avuto una tradizione di un'ARPA che era vicina alle imprese per spingerle a fare di più sul fronte ambientale, oggi mi pare che invece si sta tornando indietro con un'ARPA che diventa invece così il nemico delle imprese che con un'impostazione più giustizialista si avvicina e le imprese si chiudono al riccio e il rischio è che il risultato sia una minore tutela ambientale invece una maggiore tutela ambientale. Allora, lasciamoci tre minuti alla fine per parlare anche di politica. Sì, ho una battuta di politica su questo, dell'anomalia Umbra. Sulla sanità si evita l'azienda unica ospedaliera e l'asle unica sull'ARPA che dovrebbe essere appunto un istituto che è vicino al territorio, tra l'altro l'ARPA qualcuno se l'è dimenticato, conosceva proprio perché doveva addirittura avere la sede a Terni, tutte queste cose, si centralizza tutto a livello regionale, non c'è più politica in Umbria. Prima che qualcuno si renda conto che se si vuole continuare bisogna veramente rivedere alcuni obiettivi e bisogna essere in qualche maniera un pochino lungimiranti e decidere se su tutto regionalizziamo o se tutto facciamo come è stata fatta, per esempio con l'asle, cioè io ero per l'azienda unica ospedaliera con due plessi di Ernie Perugia e con un'unica asle con sede a Terni, ma qualcuno mi ha spiegato che quello era un modello che non poteva reggere, non capisco se non poteva reggere quel modello come può reggere il modello ARPA e dunque politicamente ci sono delle anomalie che comunque io condivido, ma al di là dell'accentramento sul direttore generale, delle anomalie di gestione, specialmente in un territorio come Terni dove oggi l'ARPA per l'assurdo è fondamentale in quel territorio rispetto a questi temi, dove abbiamo investito risorse, una sede adeguata e oggi quel territorio dove l'ARPA del Badisco dove va a nascere di avere la sua sede, oggi totalmente viene estirpata da quel territorio, c'è qualcosa che veramente non capisco. Vuole intervenire su questa riflessione di Brega? No, io sono contento di questa riflessione di Brega, peccato che appunto c'è la Presidente della Regione con la Giunta regionale che vanno nella direzione opposta, perché hanno dato l'ok a questa manovra folle, scellerata di accentramento, di abolizione sostanzialmente dei dipartimenti territoriali dell'ARPA, quindi per questo io ho presentato insieme a tutti gli altri colleghi dell'opposizione questo disegno di legge e sono felice che ci sia qualcuno che lo condivida anche all'interno della maggioranza e quindi speriamo in tempi rapidi che si riesca ad approvare, in modo che sarà scritto nella legge nero su bianco, che l'ARPA deve essere organizzata su due dipartimenti che devono coincidere con le ASL, perché ARPA e ASL devono andare insieme, quindi se le ASL sono due, sono organizzate a livello territoriale in un certo modo deve esserci la stessa organizzazione dell'ARPA, era già così nella legge, lo spirito della legge era questo, se ci andiamo… A meno che non facciamo l'ASL unica, io per esempio sono sempre stato contrario, perché penso che ci sia bisogno di più vicinanza al territorio, specialmente su questi temi e ambiente e salute devono andare insieme, quindi ARPA e ASL devono essere due facce della stessa medaglia. Lui annuncia questo, io annuncio, visto che stiamo a questa cosa qua, mi auguro che dato che le leggi le facciamo in Consiglio regionale, che venga quanto prima, anche perché se questa discussione non si dovesse avvenire, io riproporrò forse insieme anche a qualche altro Consigliere di maggioranza il disegno di legge dove pensavamo a un'unica ASL, un'unica azienda, per un motivo, se l'ARPA può essere organizzata a livello regionale, credo che a quel punto anche l'ASL… Anche l'ASL non voterebbe l'azienda sanitaria unica. No, a me non mi convince, io l'ho detto già quando abbiamo fatto questa discussione, però ha ragione e brega, cioè se per l'ASL valgono due aziende, per gli stessi motivi devono valere per l'ARPA insomma. Il Consiglio a quel punto dovrà decidere, avendo due segni di legge, deciderà se va bene l'altro, l'importante è che non si può avere dove fa comodo un modello, dove fa comodo tra l'altro l'ha detto lui, su situazioni dove l'ASL e l'ARPA, specialmente sul tema ambientale, l'abbiamo visto sulle cose dell'amianto per esempio, l'ARPA è fondamentale, non ci può essere un'organizzazione che è diversa… Io ho sempre ragionato che su alcuni modelli la regionalizzazione è giusto tanto spazio, però se qualcuno mi dice che questo ci fa in una maniera, quello l'altro c'è forse un po' di confusione, credo che la confusione non ci sia bisogno di tutto meno che di confusione. Abbiamo quattro minuti, parliamo un po' di politica, siamo in una fase particolarmente come dire fluttuante che si rinnova giorno dopo giorno, sia nel centro-destra sia nel centro-sinistra, bisogna fare i conti, dovete fare i conti chiaramente con un'altra realtà politica che è il Movimento 5 Stelle e con altre comunque che sono un po' anche al di fuori di quello che è l'ambito centro-destra e di centro-sinistra. Cominciamo da Nevi, sia in una ristrutturazione, sembra che Berlusconi un mezzo passo indietro lo stia facendo e quindi vengono fuori altri nomi, altre figure. Lei che è in Forza Italia dal primo giorno, che ha sempre seguito le orme del Presidente Berlusconi… È liberale quello del governo. Come valuta questa situazione e quale futuro può avere? Molto positivamente perché noi abbiamo bisogno di tornare a quello che viene definito giornalisticamente lo spirito del 94, cioè di una forza politica che sia più in grado rispetto a quanto ha fatto negli ultimi tempi di parlare all'Italia che produce, all'Italia che lavora, all'Italia che vuole meno Stato e più privato, all'Italia che cerca di ripartire dopo la crisi. Se quegli argomenti là erano buoni e giusti e hanno funzionato nel 94, oggi ce n'è ancora più bisogno paradossalmente. Quindi la spinta di Parisi in questa direzione a me convince moltissimo e per questo sono tra quelli che dicono lasciamolo lavorare perché se riusciamo attraverso Parisi a riagganciare quell'elettorato che tra l'altro incomincia a non avere più fiducia di Renzi perché poi quando uno incomincia a dire dieci volte le stesse cose non avviene mai, è segno che non funziona. Quindi è un momento buono in cui appunto bisogna rilanciare sulla parte centrale, fermo restando che abbiamo bisogno anche della parte più di destra, perché per vincere le elezioni bisogna mettere insieme tutto. Quindi spero che Parisi riesca anche a fare questo da collante, ma insomma il tema non è Parisi sì, Parisi no, il tema è di linea politica. Noi abbiamo bisogno di un centrodestra che parli ai moderati e che parli anche a quelli che sono più di destra. Drega, il Partito Democratico, anche nel Partito Democratico insomma c'è un'effervescenza particolare con le varie, diciamo, virgolette correnti che sono un po' in tutti i partiti. Come legge questa situazione? Nel Partito Democratico io più che correnti vedo i miracolati, gli ingrati e quelli che hanno sempre portato invece l'acqua. Allora i miracolati sono stati tutti quelli che in questi anni sono stati eletti negli Stini, fatti diventare, e che oggi, oppure gente che è stata eletta in Umbria che viene da, diciamo, o viceversa. Vedo la rivolta dei miracolati, ogni tanto leggo sui giornali che si lamentano persone che forse si sarebbero dovute misurare in un momento con elettorati cercando consensi, forse oggi non avrebbero neanche svolto ruoli che stanno svolgendo. Credo che molti debbano ringraziare Renzi come segretario, ma al di là delle provenienze, perché l'ingratitudine in politica è una cosa che esiste da una vita e oggi nel PD sta emergendo alla grande. Quando Renzi ha proposto una linea politica non ci dimentichiamo, il primo Renzi in Umbria vinse, stravinse, poi a livello nazionale vinse Bersani, ma in Umbria, Toscana, Marche ed Emilia Romagna sono le quattro regioni dove nonostante che la prima volta Renzi perse, in Umbria stravinse, perché c'era proprio la voglia di questo cambiamento, di questa svolta. Ecco, oggi vedo… La vostra generazione, no? Sì, vedo praticamente in Umbria, ecco, la rivolta dei miracolati, la chiamo, come in Renzi, ecco, credo che dovremmo essere più coerenti rispetto a quello che si diceva qualche mese fa e per cui magari molti svolgono alcuni ruoli, sapendo una cosa, sicuramente oggi governare il paese, governare l'Italia, fare il premio non è una cosa semplice, ecco, credo che dovremmo concentrarci di più su temi veri, importanti, evitando di essere sempre prime donne e cercando di essere persone che in qualche maniera guardano in troppo alto e ci si dimentica delle problematiche e quelle vere. Certo, una cosa è certa, il PD oggi è l'unico partito in Italia e oggi il PD è l'unica forza politica che veramente può e deve farsi carico di governare questa nostra nazione. Se vuole può… Non ci sono alternative. No, 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 tanto il tema è che quando verrà ridata la parola al popolo si vedrà come finisce. Sicuramente la Lega ritrapolgerà tutti. Va bene, noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati in studio a questa puntata, grazie a Raffaele Nevi di Forza Italia, Presidente del Comitato di Vigilanza e Controllo sull'Amministrazione regionale, grazie a Vero Sbrega e al Partito Democratico, Presidente della Seconda Commissione Consiliare. Grazie a voi per averci seguito, buona settimana a tutti. Grazie a tutti! Grazie.